L'opera che si sta facendo qui a Mortise, anche se è pregevole dal punto di vista delle idee, nella pratica diventa un po' difficoltosa e faraginosa, a parte il costo di per sé, l'opportunità di farla in questo momento, ma soprattutto la prima necessità che si era stata profilata era quella di mettere in sicurezza l'incrocio che è più o meno davanti alla chiesa e via Baruzzi. Allora sarebbe stato più opportuno e più necessario fare prima in primis la nuova rotonda, indipendentemente da tutto questo modifica nella cipolazione e nella viabilità, anche perché non si saprà se questa viabilità sarà adeguata alle esigenze di questo quartiere.